Oggi la giornata della memoria, tante anche in Basilicata, le iniziative di riflessione sulla Shoah. Gianni Quagliarella. Memoria della paura, del terrore. Fino a pochi anni fa non dormivo, sentivo come un incubo gli stivari tedeschi bram, 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 che di notte passavano sui marciapiedi di Roma. Lei è l'artista Giulia Maffai, sopravvissuta alla Shoah. La sua testimonianza ha voluto affidarla al Museo della Grafica di Castronuovo Sant'Andrea. Ogni volta è un'emozione che scuote la coscienza, anche da remoto, come è successo quest'anno per la pandemia. La commemorazione della Shoah in Basilicata ha coinvolto su tutte scolaresche e associazioni. A Moniterno, su invito della Proloco Campus, ha raccontato la sua drammatica storia Michele Scannone, classe 1921. Non sono mancati poi momenti ufficiali. Al Palazzo del Governo a Potenza è stato il prefetto, annunziato Vardè, a consegnare medaglie d'onore del Presidente della Repubblica agli eredi di tre militari deportati nei lager nazisti. Il giusto riconoscimento alla memoria è andato a Pasquale Pietragalla, Domenico Maddaluno e Giuseppe Larocca. Accompagnati dai sindaci di Forenza, Corletto Perticara e Brindisi Montagna, i familiari non hanno nascosto la loro grande emozione. A Matera, dopo l'inno nazionale eseguito da alcuni giovani virtuosi e la lettura di toccanti testimonianze, il prefetto Rinaldo Argentieri ha consegnato il riconoscimento alla memoria al figlio di Ernesto D'Alessandro di Colobraro, internato in un campo di concentramento. Presente alla cerimonia l'arcivescovo Pino Cagliazzo, che ha fatto suo il monito del Papa sull'indifferenza, male di ieri, ma anche del nostro tempo. Questo invece è il messaggio forte del Presidente del Consiglio regionale, Carmine Cicala. Ricordare è un dovere, perché la storia sia monito per il presente e per costruire un futuro partecipato, inclusivo, che sappia sempre difendere la libertà e la democrazia.